Terminano le lezioni e finisce così anche Scuole Sicure, il progetto regionale di monitoraggio per le infezioni da Covid negli istituti superiori. L'attività nella provincia di Arezzo era iniziata lo scorso 15 gennaio. Sono stati coinvolti sette istituti superiori al quali si aggiungono gli studenti del Casentino, per i quali era stato organizzato uno screening presso il drive-thru. 13 i sopralluoghi nelle scuole, poi per individuare un'aula destinata allo screening da parte di un'equip composta da un tecnico della prevenzione, un assistente sanitario ed un medico igienista. Nonostante la sospensione della didattica in presenza per oltre un mese, spiega Agnello Buccino, sono stati effettuati 1.458 tamponi, tra i dei quali risultati positivi. Quella degli studenti è stata una bella risposta, aggiunge poi Nicola Vigiani, dirigente medico del Dipartimento della Prevenzione. Sono stati coinvolti 5 studenti per classe in ciascun anno scolastico e quindi 25 per istituto, sui quali sono stati ripetuti settimanalmente i test. La ripetizione del test su un campione di studenti consolidato serviva ad individuare casi o focolai che potessero riguardare la scuola o la comunità di riferimento. In base ai risultati, aggiunge, potremmo dire che le scuole non hanno ricoperto nella diffusione del contagio un ruolo diverso da quello degli altri posti di lavoro. La scuola è stato uno degli ambienti più controllati durante la pandemia, conclude Roberto Curtolo, dirigente dell'ufficio scolastico, un luogo sicuro nel quale il tasso di contagio è stato estremamente ridotto grazie anche alle azioni messe in campo attraverso campagne di prevenzione come quelle di scuole sicure.